L'anno scorso, quando ho aperto il canale, io non sapevo che era pieno zeppo così di gente che già lo faceva. Il tema dell'intrattenimento connesso al mondo del lobby, no? Perché un po' quello che io personalmente da imprenditore ho sempre lamentato in questo settore è che ci fosse un enorme tecnicismo da parte di chi creava contenuti, no? La meccanica, la dinamica, il bilanciamento, il gioco profondo, non profondo, meno profondo. Però sono tutte robe che vanno bene se sei super addetta ai lavori. Se non sei addetta ai lavori, vuoi sapere se quel gioco ti piace o no. E quindi trattandosi di intrattenimento, divulgare in forma intrattenente è sicuramente una cosa che è mancata per lungo tempo a questo settore. Come mai hai sentito il bisogno di fare questo tipo di formato, no? Quindi qualcosa che fosse leggero, però al tempo stesso anche divulgativo. Allora, un po' perché sono io. Il tutorial io lo studio, me lo scrivo e lo faccio, quindi c'ha un testo scritto e seguo un testo scritto. Però in realtà io mi devo divertire in quello che faccio, cioè non posso fare una cosa totalmente seria perché altrimenti mi annoio fondamentalmente. Quindi perché ho cominciato a farlo? Perché svelo un segreto allucinante, cioè io non sono mai stata una grande fan di YouTube, cioè non mi sono mai vista 6.000 video su YouTube. L'anno scorso, quando ho aperto il canale, io non sapevo che era pieno zeppo così di gente che già lo faceva, ok? Il fatto è che spiegavo sempre io i giochi ai miei amici, alle persone con cui gioco di solito, ai miei familiari, eccetera, e quindi tutti mi hanno cominciato a dire anche ma perché non li spieghi anche ad altri? Perché non metti questa cosa? Perché io non l'ho mai visto fare, io non l'ho mai visto fare, io non l'ho mai visto fare. E ho detto in effetti mi sembra una buona idea. Per cui ho cominciato a farlo in realtà su Instagram, prima che su YouTube. Quindi ogni settimana proponemmo un gioco nelle storie di Instagram, lo facevo vedere, lo spiegavo un po' così al volo. L'anno scorso poi tra una cosa e un'altra sono riusciti a convincermi buttati su YouTube e così mi sono lanciata con il primo video. Però il perché ho scelto il tutorial è stato fondamentalmente questo, ho notato che le persone che non conoscono i giochi da tavolo, o meglio conoscono tre, quattro, i soliti tre, quattro giochi da tavolo, non ne giocano di nuovi molto spesso perché non gli va di impararli. Ma se c'è qualcuno che glieli spiega e glieli propone in un certo modo, poi ci giocano e si divertono. La cosa fondamentale in questo io credo sia l'ascolto delle persone che hai davanti, perché devi saper proporre il gioco giusto alla persona giusta. E quindi ho scelto il tutorial, sostanzialmente. Il tutorial con un formato che poi piano piano ha preso forma in realtà e ha una dinamica leggermente diversa rispetto agli altri per come è fatto visivamente. Non faccio vedere solo il tavolo, per esempio. Ci sono sempre io che mi vedo perché il fatto che si veda solo il tavolo a me mi annoia guardando il video. Sono d'accordo. Quindi, annoiandomi, abbiamo optato per me, che col quadratino da arbitro ci sono sempre, sostanzialmente, e facciamo vedere i dettagli delle cose che accadono sul tavolo durante la spiegazione. E poi, ovviamente, la scena iniziale, che non è che è stata pensata. La prima l'abbiamo fatta così, più che altro per un'idea di Giacomo, che è il mio ragazzo e che è il mio regista, il montatore, quello che fa gran parte del lavoro. E quindi è stata la sua idea di provare a farla così ed è stata di Dream On, se non sbaglio, il quarto video. E mi è piaciuta tantissimo. Mi sono divertita come una matta e quindi da quel momento in poi abbiamo fatto sempre la scena iniziale. Che poi è un po' di Alchiliana Media Moria, no? Perché poi Alchila, che è stato un po' il primo tutorialista, italiano, se poi ho fatto le scenette iniziali. Ciao! Ciao! Ciao!